Finisce a reti bianche il match tra Lavello e Audace Cerignola, valido per il recupero della sesta giornata del campionato di serie di Gironi H, precedentemente rinviato per casi Covid all'interno della società Lucana. Padroni di casa in campo con il solito assetto offensivo preparato da Mr. Zeman, il tecnico Pazienza sceglie i 10 undicesimi scesi in campo domenica scorsa nel match vinto per 2-0 contro Portici. Prima azione firmata Lavello, all'undicesimo Longo prova un tiro velenoso che Chironi manda in angolo in due tempi. Al dicesettesimo ripartenza Cerignola con Malcore che serve bene De Cristofaro, dribbling e conclusione deviata in corner da Franetovic. Al venticinquesimo Giunta sale in cattedra con una conclusione da fuori terminata al lato di Poco. E il ventinovesimo quando Burzio di testa sfrutta un ottimo cross di Longo, Chironi si supera e mette in angolo. Prima vera occasione per il Lavello. Al trentottesimo la risposta dell'audace con la deviazione di testa di Malcore. L'estremo difensore Lucano blocca la sfera, passano pochi secondi e gli ospiti si ripetono con Verde che manda al lato da ottima posizione. Grande chance non concretizzata. Il primo tempo si chiude con la conclusione di Vito Francesco terminata alta con deviazione. La ripresa si apre al terzo minuto con un tiro dal limite di Esposito che sfiora il palo. Il Lavello risponde all'ottavo con l'occasionissima sui piedi di Longo, traiettoria che sfiora il montante. E' un buon momento per l'audace Cerignola che al dodicesimo coglie una clamorosa traversa sulla conclusione a giro di Verde. Vantaggio solo sfiorato per i ragazzi di Mister Pazienza che al ventesimo tornano a farsi pericolosi sulla nuova iniziativa di Verde. Deviazione in angolo. Dallo stesso corner Malcore si libera bene ma conclude sul fondo. Il Lavello soffre a centrocampo. Mister Zeman corre ripari con tre cambi in una volta. Al ventiduesimo pasticcio di Brunetti che regala palla all'audace. Azione che porta al tiro violento di Malcore terminato al lato di non molto. E' la sveglia giusta per gli uomini di Zeman che al ventitreesimo trovano il palo sul colpo di testa di Burzio da ottima posizione. Partita che resta imballata per i restanti minuti. Ultimo brivido al quarantaseiesimo in pieno recupero con il quasi autogol sventato da Chironi e difesa Cerignolana. Triplice fischio e 0-0 il finale dal pisicchio di Lavello.